Il Presidente Formigoni ha annunciato i nomi del rimpasto di giunta. Come giudica il gruppo regionale del PD queste novità? Semplicemente un'operazione di macchiage che non entra nella sostanza del problema, non affronta il rilancio di Regione Lombardia. L'impressione che noi abbiamo è che il Presidente Formigoni si è trovato obbligato a fare questo. Da una parte perché non aveva inserito comunque una presenza femminile in giunta significativa e secondo noi non risolve appieno questo problema. Dall'altra parte perché le continue inchieste e i continui arresti l'hanno obbligato a individuare nella figura di un magistrato una figura di controllo sul suo operato e sull'operato della sua giunta. Evidentemente è una situazione comunque di grossa difficoltà, una situazione che ci dà sempre più un'immagine di un Formigoni al tramonto, un Formigoni che non è capace più di leggere la società lombarda e non è capace di individuare figure innovative. Che cosa vi aspettavate invece? Non ci aspettavamo altro che questo. Formigoni è decotto in questo momento, non è in grado comunque di rilanciare, è preda comunque dello stallo dei due partiti di riferimento, PDL e Lega. Ha dovuto portare qui due parlamentari a svolgere un ruolo, uno di assessore e l'altro di sottosegretario, non avendo la capacità di individuare nella società lombarda figure significative che potessero da una parte svolgere un ruolo importante su materie come l'economia, che vedono in affanno Regione Lombardia sia per quanto riguarda le imprese sia per quanto riguarda i lavoratori. Formigoni ha anche annunciato che PDL e Lega chiederanno ai consiglieri regionali di dichiarare la loro estranetà a fatti poco chiari. Cosa ne pensate? Ci sembra sinceramente il minimo che si possa chiedere ai consiglieri regionali. C'è persone che comunque rappresentano i cittadini, è un numero significativo di cittadini, non abbiamo nessuna difficoltà comunque a comunicare questi dati, sinceramente ci sembra un po' di fumo gettato negli occhi.